buongiorno qua abbiamo un pistacchio varietà sirora appena messo dimora ancora la pianta addormentata però a breve si sveglierà la pianta è arrivata a radice nuda con uno sviluppo molto molto grande abbiamo pianta dal metro attanta in poi qualcuna supera anche due metri e quindi già dobbiamo farle la croce in modo che quando la pianta si sveglie inverta la sua forza vitale nella parte della pianta che ci interessa che questo anno è la parte di sotto quindi faremo la croce oggi a un metro circa contando che nella parte di sotto c'è una piccola baulatura per il proprio sistema che abbiamo usato per fare la messa dimora quindi contando con quel dislivello faremo la croce cercando un punto come sto dicendo a un metro di altezza e un mezzo centimetro sopra una yema ok quindi niente procediamo a misurare un metro circa siamo qua cerchiamo che il taglio sia un pochino sopra alcune delle yeme che si vedono chiaramente qua possiamo anche liberare qua dobbiamo cercare un posto dove non ci sia una grande concentrazione delle yeme dove non siano mucchiata ad esempio qua abbiamo una qua e un'altra separata quindi qual posto è buono dobbiamo cercare un mezzo centimetro sopra una delle yeme e dobbiamo fare un taglio a becco che più o meno così in modo che la lacrima in caso ci sia venga da questa parte e così abbiamo fatto la croce della nostra pianta del pistacchio grazie a tutti